Includere in tutte le specialità mediche la consapevolezza delle differenze associate al genere con il fine di garantire ad ogni persona, sia uomo che donna, la migliore cura, rafforzando ulteriormente il concetto di centralità del paziente e di personalizzazione delle terapie. Con questa finalità l'Asla di Salerno, pioniera in Campania, ha costituito ed attivato attraverso la dottoressa Maria Gabriella De Silvio, presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Asla di Via Nizza, il gruppo tecnico per l'attuazione del piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere nell'Asla di Salerno. La medicina di genere studia le differenze tra uomo e donna dal punto di vista della frequenza e del modo in cui si contraggono le malattie e soprattutto nella risposta alle terapie. Le donne hanno reazioni ed effetti collaterali diversi dagli uomini nell'utilizzo dei farmaci, solo per fare un esempio. A chiarirlo questa mattina nel corso di un incontro con la dottoressa De Silvio, anche la dottoressa Domenica Marianna Lomazzo, consigliera pari opportunità della regione Campania, alla presenza tra gli altri del direttore amministrativo dell'Asla, la dottoressa Caterina Palumbo. La medicina di genere ormai è una realtà della sanità italiana. Da quando a gennaio del 2018 è stata promulgata la legge numero 3, è stato l'ultimo atto legislativo dell'allora ministro della salute Beatrice Lorenzin, che poi ha previsto un piano attuativo. All'interno del piano attuativo è scritto che cosa devono fare i vari attori istituzionali della sanità italiana. Noi faremo quello che è scritto nel piano attuativo, come appunto da mandato, e realizzeremo quattro obiettivi, che sono quelli della PDTA, cioè i percorsi clinico-diagnostici, suddivisi per genere, la ricerca, la comunicazione e la formazione. Ad attivare il tavolo in provincia di Salerno è una cosa significativa, anche perché in Campania credo che la pioniera per quanto riguarda l'attuazione della medicina di genere, la promozione della medicina di genere, sia stata appunto una vostra splendida concittadina che è la dottoressa De Silvio. Cioè in pratica io mi sono avvicinata a queste tematiche, proprio perché è spinta dalla dottoressa De Silvio, che davvero è pioniera, ma credo sotto il ritorno nazionale, per quanto riguarda la medicina di genere, la promozione della medicina di genere. Quindi è simbologo e significativo che noi stamattina andiamo ad insediare questo gruppo tecnico che dovrà ovviamente promuovere la medicina di genere sul territorio provinciale, zona di Salerno.